Per il pilota di Cervera è chiaro che, in questo momento, deve accettare la sua situazione e provare a battere i rivali in pista, per poter tornare a giocare ai loro livelli anche fuori pista. Salti sulla moto del campione, quindi è nelle tue mani. È stata una giornata di adattamento alle posizioni. La velocità c'era. Ha capito come gestire le cose. Ho molto da imparare per essere più costante e più sicuro, ha indicato Mark Marquez dopo aver provato la nuova Ducati a fine novembre. In dichiarazioni che da zona reso pubbliche più di un mese dopo, perché fino al 31 dicembre il pilota di Hillerd aveva ancora un contratto con la Honda e non poteva parlare. Come pilota Ducati. Benvenuto in MotoGP News, non dimenticare di iscriverti e mettere mi piace. In generale le sue parole hanno confermato ciò che aveva intuito vedendo il suo volto e i suoi tempi quel giorno, ovvero che era pienamente soddisfatto del suo primo contatto con la Ducati, nonostante fosse una moto che non conosceva e alla quale si è dovuto adattare. Ma non tutto si riferiva a quel cambiamento e all'accoglienza che la famiglia Gresini lo aveva accolto. Gli fu anche chiesto come avesse gestito tutto ciò che riguardava il suo approdo in Ducati, con le parole dei vertici della squadra italiana, che in quel momento indicavano che la maggior parte non è piaciuto a nessuno, con le critiche a quelli che nel 2024 saranno suoi compagni di squadra o il fatto di dover correre con la moto di Johan Zarco, nemmeno con il campione del mondo e vicecampione tale Pecco Bagnaia e Orge Martin. Considerato tutto ciò, Mark Marquez è chiaro. Deve concentrarsi sulle corse e dimostrare perché è il pilota di maggior successo nel paddock. Ho fatto molto in passato, ma devo dimostrare che posso farcela anche nel presente. Nessuno è eterno e sarebbe un errore, nella situazione in cui mi trovo. Pensare a quello che mi ha fatto questa o quella persona. Bisogna dimenticare e concentrarsi su se stessi, dice Marquez riferendosi a quei rivali, come Marco Bezzecchi, che continuano a criticarlo e che ora saranno nella sua stessa squadra e sapranno tutto quello che fa. Come ha sottolineato l'amministratore delegato di Pramac Ducati, Paolo Campinotti, quando ha ammesso di aver provato a ingaggiare Mark Marquez per la seconda squadra e, in un certo senso, non glielo hanno permesso. Il fatto che il pilota di Cervera abbia accettato di abbassarsi a correre su una moto privata e ha rinunciato al miglior stipendio della MotoGP è perché vuole dimostrare di essere ancora valido dopo quattro anni senza guadagnare nulla. Una situazione che le stesse parole di Marquez confermano. Proprio adesso. Stanno giocando con me e io non posso giocare con loro, ha detto in dichiarazioni pubblicate da Motosan, durante l'invio di un avviso. Quando sei veloce in pista e escono i risultati, hai tempo per pensare a fare una cosa o l'altra. Come mi è successo in passato, quando correvo ad altissimo livello e avevo tempo per giocare. Avverte un Marquez chissà che adesso lo abbia fatto. Devi abbassare la testa e concentrarti sulla vittoria. E che tutto ciò che ha ottenuto in passato non gli è più utile. L'ho detto in passato, lo dico adesso e lo dirò tra qualche anno. Nessuno è eterno, indica. Nadia Padovani ereditò la guida del tanto mancato Fausto Gresini e gli esordi del team satellite Ducati in MotoGP si conclusero con le vittorie nelle prime due stagioni, soprattutto le quattro di Bastianini nel suo primo anno in Ducati. Non si aspettavano di avere, all'improvviso e quasi senza cercarlo, al manubrio della loro Desmo 16 il miglior pilota attuale e sei volte campione della MotoGP. Si è presentato alla squadra in modo calmo e umile. Da uno che ha vinto tanto ti aspetti chissà cosa, invece è stato proprio il contrario. In effetti era anche un po' agitato, desideroso di salire di livello. Racconta il responsabile della struttura italiana dello sport, dove spiega come ha capito che stanno facendo il tutto per tutto dopo le prime fasi del test di Marc Marquez a Cheste. Ero ai box aspettando che si togliesse il casco dopo la prima partenza. Volevo vedere la prima espressione quando scendeva dalla moto. Ho visto quel sorrisetto sul suo viso e mi sono detto. Ok, eccoci qui. Era molto contento e anche lui ha preferito fermarsi un'ora prima per non correre rischi, rivela. A quanto pare anche Marc Neytest ha scherzato sulla possibilità di essere campione al primo tentativo. Non sapevo lo avesse detto, ma è chiaro che tutto sommato ha voglia di tornare in gioco dopo anni difficili per il problema al freno. Al braccio è un ritorno con una moto difficile che non permetteva più dargli certi risultati e con i quali cadde. Molte volte. Tuttavia non ha mai smesso di impegnarsi per dare il massimo. Per Nadia è chiaro che potrà ottenere tutto pur essendo all'esordio con la Ducati contro un due volte campione di casa come Bagnaia. Non so come vincere, ma mi aspetto di lottare per la Coppa del Mondo da uno come lui. È chiaro che Bagnaia è un pilota molto forte, ha molto controllo sulla moto ed è cresciuto molto negli ultimi anni. Martin è un altro di quel livello e guida la Ducati in modo spettacolare. Bezzecchi sta crescendo bene. Quindi direi che vincere il Mondiale non sarà così scontato. Ma ci proveremo. Siamo già a livello di una squadra ufficiale e cresceremo insieme a lui. Chiude senza fretta nel parlare di restare insieme dopo il Mondiale. Primo anno. Lo vedremo. Orge Martin ha vissuto un anno da sogno, nonostante abbia perso il campionato del mondo MotoGP nell'ultima gara. Il pilota madrileno ha fatto un salto di qualità e si è comportato al di sopra delle sue aspettative, guidando per ora il Mondiale e sognando di far parte del team ufficiale Ducati. Ha vissuto anche una polemica con la Michelin nella penultima gara, che ha portato a parlare di un possibile complotto per Pecco Bagnaia per vincere il titolo. E ha visto come dal 2025 arrivi in Ducati una nuova minaccia, un Marc Marquez che, se si esibisce come ci si aspettava da lui, avrebbe gareggiato per un posto nella prima squadra della squadra italiana. Di tutto questo parla Orge Martin in un'intervista all'agenzia Europa Press, nella quale non esita ad affrontare tutta la questione del complotto, alla quale non crede, nonostante gli scontri avuti il venerdì dell'ultimo Gran Premio, sul circuito Riccardo Tormo di Valencia, con il direttore sportivo della Ducati, Davide Tardozzi, che lo pressava all'uscita dal box. In questo senso, il pilota madrileno ribadisce di non vedere alcun complotto da nessuna parte e che la sua lamentela secondo cui. Il Mondiale è stato deciso da una brutta gomma posteriore, dopo la gara del Qatar, non era contro la Michelin, ma era una lamentela generale. Non ho mai attaccato la Michelin in questo senso. A Valencia abbiamo fatto degli incontri e mi hanno detto che avevo qualcosa, non ero al 100%. Ma ei, alla fine devono coprirsi le spalle e anch'io non posso dire molto. Dice Martinator prima di ricordare che il grill si è lamentato che le gomme erano difettose. E manda un avviso. Devono migliorare il controllo di qualità. Quella polemica. Che lo ha lasciato quasi senza opzioni per l'ultima gara della MotoGP e il fatto di arrivarci avendo tagliato. Ancora una volta, lo sprint non lo fa sentire frustrato e valuta la stagione per quello che vale. Sono soddisfatto e molto felice. È passato un anno da incorniciare. Ovviamente non è stato il risultato che avrei voluto, essendo così vicino, ma sono molto orgoglioso dell'anno che abbiamo fatto. Mi do un voto alto. Perché finire secondo oggi MotoGP non è per niente facile, dice avverte. Prima di riconoscere che non era previsto. Avere l'obiettivo di essere tra i primi tre o tra i primi quattro. Arrivare secondi rientra nell'obiettivo. L'anno prossimo l'obiettivo non sarà quello, sarà vincere, ammette. Sono stato vicino a diventare una leggenda, anche se penso di aver lasciato lì il mio nome. Mi riconoscono come una persona che dà tutto, che non lascia mai nulla dietro. Quel personaggio attrae le persone. Spero di vincere il campionato del mondo MotoGP prima di ritirarmi e passare alla storia, indica il pilota di San Sebastian de los Reyes, che non si aspettava di ottenere prestazioni come quelle sprint, dove ha totalizzato nove vittorie. Non mi aspettavo che fosse così positivo per me. Sì, tutti mi hanno messo tra i favoriti fin dall'inizio e pensavano già che avrei vinto molto. Ma non sapevo come sarebbe potuta andare, anche se la cosa mi ha sorpreso in meglio, ammette. L'aspetto negativo è non aver saputo gestire la pressione quando è andato in testa per qualche ora o quando ha avuto l'opportunità di fare il salto al primo posto e non è riuscito. È vero che quando ho potuto essere un leader, quando ho avuto ottime opportunità, quando ho fallito, allora questo ti influenza di più, ma sono contento di ciò che ho ottenuto. A inizio anno abbiamo perso tanti punti e abbiamo lasciato che Pecco creasse quella base punti che poi lui ha dovuto. Solo gestire. Invece dovevo attaccare. Partire bene nel 2024 sarà importante, riconosce Orge Martin. Quel tour asiatico in cui ha toccato la gloria è stato anche quello che lo ha condannato e, secondo il madrileno, sono state alcune settimane in cui non si è divertito. E alla fine ne ha fatto le spese. Mi ha dato molta esperienza per situazioni come quest'anno. Ho saputo vincere, ad esempio, in Taolandia, in situazioni difficili, con molta pressione, ma non mi sono divertito, non mi è piaciuto questo sport. Questo è un punto di cambiamento per il futuro, indica nel documentario Martinator. Infine ha fatto riferimento anche alla lotta per entrare nel team ufficiale Ducati, cosa che non si aspettava, ma che ha apprezzato dopo i risultati ottenuti nella seconda parte della stagione. Il che lo ha fatto arrivare a Valencia con due tute nere nel caso in cui fossero rimasti sorpresi e avessero annunciato la sua firma. Come in una squadra satellite e con Marc Marquez vedono minacce per il 2024, indica come possibile motivo della mancata promozione, cosa che per decimo non poteva essere chiusa. Allo stesso modo sono felice di continuare a Pramac, è il posto migliore per lottare per un mondiale. Ammette prima di inviare il bando. Il mio obiettivo principale è andare in Ducati, ma se non sarà possibile dovrò cercare altre opzioni. Ci sono tante fabbriche che stanno facendo grandi passi, vedremo quale è l'opzione migliore. Sottolinea parlando del 2025, dove avrebbe potuto incontrare un Marc Marquez al quale anch'io avrei potuto aspirare a quella posizione. Il suo arrivo è un altro punto di difficoltà, anche se Orge Martin la vede diversamente. Mi dà motivazione. Poter confrontarmi con Marc, uno dei migliori della storia, sarà bello, bello. Se riesco a batterlo con la stessa moto mi affermerò come uno dei migliori piloti che ci siano. E penso di potercela fare, dice. Al pilota di Cervera, pur correndo con una moto dell'anno precedente e in un team privato, vengono concesse tutte le opzioni. Lo vedo competere per la Coppa del Mondo. La lotta sarà simile a quella di quest'anno, con la guerra Ducati nuovamente protagonista. Marc e Pecco vinceranno sicuramente e vedremo se altre fabbriche miglioreranno, come Honda o Yamaha. Altrimenti la storia si ripeterà, ma con l'incoraggiamento di Marc Marquez, conclude. Cosa ne pensi di tutto ciò di cui abbiamo discusso oggi? Ti leggiamo nei commenti. Non dimenticare di iscriverti e di mettere mi piace per restare informato sul mondo della MotoGP.